È un format che a me piace perché dà la possibilità di una relazione, di una costruzione immediata, di una relazione con chi ascolta ovviamente o con chi vi guarda e la possibilità di intervenire sul tema portando una riflessione in diretta. Assolutamente, i microfoni, ci sono due aspetti che ci hanno particolarmente spinto a iniziare questa esperienza. Il primo è quello di recuperare uno strumento affascinante, bello, quale è quello della radio. Sì, che è forse l'unico strumento che non morirà mai. Io e Dario pensiamo che questo sia uno degli aspetti fondamentali, cioè da quando le radio, le radio libere negli anni 70 hanno cominciato a fare un certo tipo di lavoro, quel lavoro poi durante gli anni 80 è stato in un certo senso messo da parte per favorire anche in quel caso, come è successo con la TV, le radio commerciali. Se vuole dire che oltre all'ammazzamento sul mercato che hanno subito le radio libere c'è stato anche quello fisico di Peppino Impastato. Ecco, infatti, l'ultima puntata l'abbiamo dedicata a Peppino Impastato, appunto la scorsa puntata, era un esempio, è un esempio, continua a essere un esempio. Libertà di parola. Libertà di parola, però guarda, credimi, io non faccio mai citazioni, però la filosofia che regge il nostro programma è non smetterò mai di ringraziare anche l'editore, che ci lascia assolutamente liberi e non ci provoca nessun tipo di condizionamento. Ed è gratificato dagli ascolti. È gratificato dagli ascolti, è gratificato soprattutto dalla vivacità del dibattito che si apre, perché lascia il segno. Sì, sì, è molto stimolante. Alcune delle cose che abbiamo fatto e abbiamo detto hanno lasciato il segno, anche in città si è aperto un piccolo dibattito, ma quello che, diciamo, la filosofia di fondo, che ci spinge, ci dà la forza di andare avanti, è che siamo fermamente convinti del fatto che, per dirla alla George Orwell, in un momento in cui la società vive sulla menzogna, dire la verità è un atto assolutamente rivoluzionario. Noi proviamo, non abbiamo la pretesa di dire la verità, ma abbiamo la spinta a non accontentarci della verità ufficiale che ci viene propinata. Poiché pensiamo, ad esempio, che sul tema della guerra, dell'attuale guerra in Libia, sia stato fatto un lavoro mediaticamente sporco, come in tutte le guerre finora condotte, parlo della guerra del Kosovo, parlo della guerra in Iraq, parlo della guerra in Afghanistan, noi abbiamo preso la missione in Libia che viene, appunto, con un'operazione menzoniera, dichiarata l'ennesima missione di peacekeeping, azione umanitaria, e abbiamo provato a smontare le teorie secondo cui una guerra non può mai essere umanitaria, perché ammazza e uccide delle persone. E su quella rivista che hai per le mani, che è Report M, Sì, che è una rivista locale, c'è un bellissimo spaccato anche di questo aspetto della guerra, e abbiamo provato a far ascoltare ai nostri amici che ci seguono, ad esempio, quello che Vittorio Arigoni diceva da Gaza. Sì, a servizio di un'idea. Esatto. Che è un servizio di Osvaldo Capraro che avremo ospite con noi prossimamente. Esatto. Osvaldo, ad esempio... Che è uno scrittore molto bravo. È uno scrittore assolutamente bravo. È uno scrittore strepitoso. Che merita, appunto, lo spazio nell'ambito dell'editoria pugliese e non solo. Osvaldo l'ha scritto lì, ha scritto un suo editoriale. Noi, in Talk Radio Blu, abbiamo dato voce davvero ad Arigoni. Cioè, cosa che non so quanti hanno fatto. Noi abbiamo preso i suoi video. E li avete mandati. E abbiamo... Ci siamo censurati. Siamo stati zitti per 12 minuti. Abbiamo fatto parlare Vittorio Arigoni. Quando Vittorio Arigoni era morto e veniva descritto, come abbiamo visto, nella stampa ufficiale. Sì, si è scatenato il peggio. Diciamo che non mi... La voracità da pesce cani che ha mangiato quell'episodio l'ha trasformato immediatamente in una, come dire, deiezione. Che è tipica del modo di fare, poi, italiano. Ad esempio, nessuno ha approfittato per parlare della condizione in cui vivono i palestinesi in quelle terre. Cioè, ad esempio, c'era uno spazio enorme che si apriva. La morte di Vittorio Arigoni, che insomma non è un fatto secondario, anzi è un fatto talmente tanto grave che avrebbe dovuto far parlare per giorni una società civile. In Francia probabilmente sarebbe accaduto. Ecco, in Francia sì, ma ad esempio in Inghilterra, io ora non ricordo il nome di questo intellettuale, della comunità ebraica inglese, ha definito due giorni fa Vittorio Arigoni un terrorista, un pericoloso terrorista, insomma, che è stato ammazzato, è stata una cosa assolutamente positiva. C'è una recrudescenza e una riviviscenza del sionismo. in Europa, di quel sionismo becero che tende a nascondere le ragioni e le verità altrui, a soffocarle anche legittimando l'uso della violenza. Ecco, su questo ci inviti a nozze, mi inviti a nozze perché abbiamo fatto anche su questo una trasmissione specifica, cercando di spiegare le differenze tra ebraismo, sionismo e antisemitismo. Ah, dovevi invitare Saviano per farti raccontare un po' di cose. Sì, magari poi gliela mandiamo la trasmissione a Roberto Saviano. No, l'arriva censurata dalla Digos. Ah sì? Sì, beh, penso di sì. Le scorte servono anche a questo. Ciccio, il lavoro che voi sviluppate sul territorio, ha una sua visibilità, ha anche un trasferimento, diciamo, incide poi sulla costruzione delle opinioni che circolano. Perché il fatto che la vostra trasmissione sia seguita, che dica delle cose, che in qualche misura introduca degli elementi di verità, è maieutico il percorso, invitando il pubblico, gli ascoltatori, a dialogare con voi e quindi a raggiungere, ad avvicinarsi ad alcuni aspetti della verità, ovviamente fa circolare delle opinioni. Siete stati mai minacciati? No, no, assolutamente no. Fino ad ora non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Quindi possiamo spezzare una lancia a favore dell'informazione libera, dicendo, guardate, non è pericoloso dire le cose. Non si va sotto scorta come avviene con Saviano. Si dicono delle cose, punto. Si fa anche un lavoro di inchiesta. Sì, io non credo che ci siano stati degli elementi... Guarda, un esempio forse può chiarire questo aspetto. Noi abbiamo fatto una interlocuzione anche abbastanza dura con il sindaco della città, perché ritenevamo che in quel momento stesse facendo delle scelte inopportune. Il sindaco, al termine della trasmissione, ci ha ringraziato per le critiche che noi avevamo fatto. Dopo un po' di tempo abbiamo visto dei provvedimenti modificati. L'avete influito? Non lo so se abbiamo influito. Non lo so. Noi abbiamo una grossissima questione a Monopoli e l'abbiamo voluto affrontare perché ha una rilevanza regionale. Qual è? L'accesso al mare, la privatizzazione del mare, delle coste, l'accesso, la fruibilità del mare come bene pubblico. A Monopoli si paga per andare al mare. Se non paghi per entrare, paghi per parcheggiare. Abbiamo notato che, pur avendo idee molto differenti, il sindaco ha modificato alcuni aspetti su questa questione. E non abbiamo lesinato critiche, non abbiamo lesinato assolutamente nulla. Ma non c'è stato nessun tipo di problema. Quella, diciamo, anche sul tema, ad esempio, scottantissimo dei rifiuti. Con Mauro De Nigris abbiamo fatto una carrellata delle sue principali inchieste sul tema dei rifiuti. Ci ha raccontato alcune cose davvero, davvero raccapriccianti e pesanti. Non c'è stato nulla. Non abbiamo avuto problemi. Forse siamo troppo piccoli, non facciamo male a nessuno, non creiamo chissà quale problema. Ma se vuoi una risposta... È possibile visionare le puntate sul vostro sito? Sul sito www.radioblutv.it è possibile visionare tutte le puntate delle trasmissioni che facciamo e ascoltarci in diretta il martedì sulle frequenze in FM 94 e 20 in provincia Monopoli e d'intorno in 92.9 Bari e Brindisi. Ciccio, in chiusura, idee per il futuro di Radio Blu? Idee per il futuro è quello di sviluppare questo tipo di informazione, incrementarlo ancora di più e provare a uscire anche... portare la radio fuori dagli studi. Abbiamo questo tipo di ambizione per l'annata 2011-2012. Cioè vorremmo portare i microfoni della radio fuori dalla radio, in diretta. È possibile farlo? Tu vuoi riprendere a fare ciò che si faceva negli anni 70, l'inchiesta radiofonica. Io ti ci vedo con il microfono, questo aggeggino da prima guerra mondiale in giro per... Non c'è più quell'aggeggino, basta una semplice chiavetta, riusciamo a fare questo. E quindi a registrare con... No, ma è in diretta, non è in... In diretta. Ci si può... insomma è in streaming, quindi va direttamente sia in FM che in rete. Quindi l'obiettivo è quello di portare i microfoni fuori dagli studi. E quindi faremo... continueremo con il format che hai conosciuto quest'anno, cioè gli ospiti che vengono da noi. Ma contemporaneamente andremo noi dal... lì dove accadono i fatti, lì dove vogliamo raccontare qualcosa. Dove... Dove c'è il fatto. Dove c'è qualcosa da dire, ecco. Sì. Perché... E dove c'è qualcuno da ascoltare. E dove sappiamo che magari qualcuno ci può ascoltare. Perché il punto è sempre quello. Ciò che gli altri non dicono noi proviamo a raccontarlo. E proviamo a raccontarlo secondo le nostre sensibilità, le nostre idee. Criticabilissime. Ma voglio dire, lo facciamo, ci mettiamo la faccia, il tempo. Ah, e la cosa assolutamente prioritaria è che siamo completamente privi di qualunque tipo di finanziamento. Noi non prendiamo soldi da nessuno, non abbiamo sponsor. La radio fortunatamente vive, vive sulla pubblicità. Non ha neanche, da quello che l'editore mi diceva, finanziamenti, ma vive solo sulla pubblicità. E noi continueremo così. E Radio Blu resta libera. Io invito chi ci ha ascoltato a cercare Radio Blu, a sintonizzarsi, il martedì a che ora? Dalle 21 alle 23. Dalle 21 alle 23. Martedì 7 facciamo uno speciale sulle ragioni del referendum. Mi candido a intervenire. No, sei invitato, te l'ho detto anche prima. Parleremo del referendum del 12 e 13 giugno. Ma non parleremo delle ragioni del no. Questa è la libertà che ci dà una radio. Mi inviti a nozze. Dunque cercate Radio Blu, cercate Talk Radio Blu e cominciate a mettere su anche voi delle radio libere. Alla prossima di Instant Book. This life is more than just a read-through. Nowaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaonaona